I temi più importanti che abbiamo a tavolo penso siano due con la regione Lombardia. Il primo è relativo alla casa, il discorso che si incrocia tra i bonus, gli interventi sugli eco bonus, ma soprattutto sulla normativa europea che avrà delle ricadute importanti sul nostro territorio. Questo vuol dire risparmio di consumi, vuol dire miglioramento della società, vuol dire le famiglie. Sicuramente è un'opportunità non solo per le imprese ma anche per la nazione, ma dobbiamo stare molto attenti al discorso economico perché non pesi troppo sulle famiglie, non bisogna lasciarli solo, quindi in questo caso la regione Lombardia dovrà svolgere un ruolo molto importante di sostenere. L'altro tema importante di questi prossimi cinque anni è le Olimpiadi, Milano-Cortina e il PNRR. Sono molti lavori, sono cifre importanti che non si vedono da decenni sui nostri territori. Chiediamo un'attenzione particolare che gli appalti vengano fatti con dei prezzi congrui, quindi una valutazione per quanto riguarda il prezziario di regione Lombardia per quanto riguarda le opere edili e l'ha ricaduto sul territorio di tutti questi lavori. Cioè credo che le normative, gli appalti abbiano un minimo di attenzione al fatto che questi lavori possono essere aggiudicati o comunque abbiano collaborazioni in crisi del territorio perché queste risorse poi creino comunque un volano sul territorio.